Allora, ben ritrovati, spero tutti. No, non ancora, ma arriverete, arriverete. Ora, io vi invito a continuare, anche perché riceverete quello che stavamo vedendo insieme, sul concetto di turismo per tutti, mentre vorrei cominciare ad affrontare, anche perché ci rimane un'ora esatta, non di più, anche perché poi i nostri tecnici ci devono salutare e quindi vorrei veramente affrontare il discorso delle persone con disabilità, vedendo esigenze e tipologie. Ci tengo a ribadire ancora una volta che tutto quello che vedremo adesso, non che non sia vero, è verissimo, ma ha una modalità assolutamente didattica, perché ogni volta che voi avrete a che fare con turisti, li dovete considerare nel loro insieme e non il turista in carrozzina, il turista non vedente, il turista non udente. Sono tutte persone che fanno turismo e che hanno delle esigenze che voi conoscete in quanto siete professionisti che devono rispondere a queste esigenze. Vi prego di tenerlo a mente comunque. Allora, le principali tipologie di disabilità sono la disabilità fisica, la disabilità sensoriale, la disabilità mentale e psichica e altre tipologie in senso lato. Andiamo a vedere quanti possono essere queste altre tipologie in senso lato. Quali sono le persone a cui serve il turismo accessibile? Qui io non mi sto chiedendo quali sono le persone disabili. Le persone a cui serve il turismo accessibile sono quelle quelle che usano la serie a ruote, che hanno difficoltà di deambulazione, che hanno disabilità visive, disabilità uditive, che soffrono di asma, che hanno allergie, che hanno delle restrizioni di alimentazione in genere, che possono andare dal diabete alla celiachia a tutta una serie di altre questioni personali che richiedono loro di affrontare il cibo in maniera diversa dagli altri ospiti. Sono persone che non comprendono la lingua e che quindi con cui non riusciamo a comunicare. Sono persone che hanno difficoltà di apprendimento, come dicevamo prima, molto piccole, molto grandi, che hanno tutta una serie di altre esigenze specifiche. Siamo rimasti un po' meno di quanti eravamo all'inizio, ma io credo che se ancora una volta, come vi dicevo prima, se noi ci chiedessimo quali sono le nostre esigenze specifiche, almeno una per uno la troviamo, indubbiamente. Quindi siamo in un certo senso tutti. Sono persone che hanno disabilità multiple e lo vedremo, per esempio, nel caso delle persone sordo cieche. Ma quello che è importante, che ci tengo a ribadire, che cosa vorrebbero fare queste persone. Vogliono andare a fare viaggi, gite con la famiglia. Sono tifosi. Visto che vengo dal Lazio, della Roma o della Lazio, forse qui del Bari o di qualche altra squadra, non lo so. E quindi vogliono andare, per esempio, a fare il tifo per la loro squadra, lontano dalla loro città di residenza. Immaginate che questo che cosa significa. Significa autobus, significa mezzi pubblici, significa accesso allo stadio, significa dormire, mangiare, eccetera, eccetera. Che sono degli atleti. Festival musicali, pellegrinaggi religiosi, delegati a conferenze, leggetele tutte. Sono tantissime possibilità a cui sicuramente se ne possono aggiungere altre. E quindi cosa vorrebbero fare? Tutto quello che pare a loro. Non quello che decidiamo noi per loro. Non chi mi dice io ho fatto un bel programma per i disabili e ce li metto tutti dentro. Non magari perché la persona con disabilità vuole andare al mare e io li porto in montagna. Dobbiamo considerarli persone. Un'altra cosa. Cercate di considerare sempre persona con e non i disabili. Non esiste la categoria dei disabili. Sono persone con esigenze specifiche. Un'altra rappresentazione. Allora, disabilità fisica, abbiamo detto ridotta mobilità, chi usa la sedia a ruote. C'è una differenziazione di esigenza fra chi usa la sedia a ruote manuale e chi usa la sedia a ruote a trazione elettrica. Perché con la sedia a ruote manuale io ho la possibilità di muovere gli arti superiori, chi usa la sedia a trazione elettrica probabilmente ha questa capacità estremamente ridotta e molto spesso, quasi sempre, non può trasferirsi dalla propria sedia a ruote, come succede invece per chi usa quella manuale che magari guida la macchina. Persone con disabilità sensoriali, visive, uditive ed eccole multiple, persone sordo cieche. Difficoltà di alprendimento, problemi di orientamento e comunicazione. Qui per esempio è molto importante per chi fa la guida. Cercare di capire chi magari può sembrare un po' disperso, spaurito, disorientato, perché va aiutato e va seguido nel corso della gita stessa. Persone con epilessia eccetera eccetera eccetera. Allora, vediamole uno per uno. Le persone con ridotta mobilità sono quelle che sono più facilmente identificabili. È evidente che una persona che sta seduta su una sedia a ruote la vedete subito e vi è quasi automatico comprendere quali sono le esigenze che stanno dietro alla sedia a ruote. Se sta di fronte a un gradino vi immaginate che questo gradino possa costituire un ostacolo e quindi immediatamente collegate la persona con l'ostacolo e conseguentemente per quello che riguarda la predisposizione del servizio con il modo di superare questo ostacolo. È chiaro che possono usare bastone, possono usare anche altri ausili, per esempio il deambulatore che a questo punto molto più che per la persona su sedia a ruote riduce le capacità di movimenti e di per esempio gestione degli oggetti. Una persona su sedia a ruote se ha una borsa se la mette sulle ginocchia. Una persona che usa un deambulatore a tutto occupato, gambe e braccia. Allora vediamo le esigenze e vediamo come queste esigenze, lo vedremo categoria per categoria, hanno influenza sul servizio. Quindi così come altre categorie, le esigenze delle persone a ridotta mobilità sono in primis quella di avere informazioni accurate e precise sul livello di accessibilità per loro della località che vogliono visitare. Che questo che cosa significa? Dire loro se ci sono gradini, dire loro se ci sono rampe, quanto sono ripide queste rampe, se ci sono ascensori, come sono fatti, eccetera, eccetera, eccetera. Disponibilità di servizi aggiuntivi. Che cosa intendo per servizi aggiuntivi? Magari può essere necessario avere qualche ulteriore strumento o ausilio in albergo. Un sollevatore per riuscire a muoversi facilmente dal letto o qualsiasi altro. Un servizio aggiuntivo che adesso è diventato di uso comune è per esempio il telecomando del televisore. Il telecomando evita la persona su sedia a ruote di alzarsi dal letto, cosa che sarebbe sicuramente estremamente faticosa, e può gestire almeno il televisore. Potrebbe anche utilmente gestire altri strumenti nella camera che fossero collegabili ad una gestione a distanza. Hanno bisogno di avere superfici anti slittamento per evitare, qui parliamo di persone che camminano male, per evitare di cadere, spazi di manovra, percorsi adatti e ampi a sufficienza, porte spaziose. Prima parlavamo di come sistemare una camera che possa accogliere in maniera adeguata persone che usano la sedia a ruote, ecco sicuramente le porte debbono essere in grado di farli passare e devono essere sistemate in maniera da poter essere aperte all'esterno e non spinte all'interno. Non ci devono essere gradini, non ci devono essere soglie, cordoli, devono avere parcheggi ampi, possibilmente da entrambi i lati perché possono essere sia guidatori che trasportati e quindi devono potersi muovere o scendere dalla macchina in maniera comoda. Devono avere i corrimano su entrambi i lati, ovunque i corrimani vengono posizionati e l'apertura delle porte deve essere facile e non complicata e soprattutto le porte diciamo che non devono spingere, non devono fare troppa forza per poter aprire le porte. L'area di parcheggio deve essere quanto possibile sistemata il più vicino alla struttura e questo in linea di massima per le strutture alberghiere esiste, per le altre strutture visitabili è un pochino più complicato. Voi sapete che ci sono dei parcheggi riservati e in genere ogni amministrazione comunale fa in modo di averne un certo numero nelle zone frequentate dai turisti ma anche dai residenti che permettono anche l'accesso in zone limitate al traffico. Ora io non so se a Bari esistano delle zone a traffico limitato, ecco in questo caso la persona con il contrassegno può entrare in quei varchi senza incorrere in nessun tipo di penalizzazione o multa. Devono avere i sanitari bagni di dimensione adeguata senza esagerare, non servono delle piazze d'armi e non servono neanche dei bagni che sembrano degli ospedali con maniglioni che corrono da tutte le parti. È sufficiente che si possano muovere comodamente all'interno e che abbiano la possibilità di usare tutti i sanitari, compresa la doccia che possibilmente deve essere a pavimento. Devono sapere assolutamente e devono essere previste delle misure specifiche da adottare in caso di emergenza, che possono essere andare semplicemente dal fatto di ospitare le persone con disabilità in stanze che abbiano le dimensioni adatte al piano terra di una struttura, ovvero avere tutte quelle accorgimenti, comprese sedie di evacuazione particolari che devono essere presenti per far fronte a esigenze di emergenza. Tenete presente per esempio negli spazi pubblici, negli aeroporti, esistono dei luoghi che vengono chiamati luoghi statici sicuri, per cui in caso di incendio le persone con disabilità, soprattutto le persone con sedi a ruote, persone non vedenti, vengono accompagnate lì. La zona non è, diciamo, aggredibile dal fuoco e a emergenza passata possono tranquillamente essere, diciamo, liberate, tra virgolette, senza correre rischi. Quali sono le conseguenze di tutto ciò sul prodotto e servizio? È chiaro che va, perché dico operate a seconda dei casi, perché un conto è che voi abbiate di fronte una persona seduta su una sedia a ruote, un conto è che abbiate di fronte una persona che cammina col bastone. Quindi è necessario in ogni caso che le situazioni di disagio siano ridotte al minimo, quindi evitare di fare lunghe distanze a piedi per chi cammina male, evitare di farli stare in piedi troppo tempo per scendere o salire le scale e così via. Nel caso di persone su sedia a ruote, per esempio, è opportuno che ci sia la possibilità di parlare con loro ad un livello pari. Io, per esempio, potrei essere una persona su sedia a ruote, visto che questa sedia è bassina. Se voi foste alla reception di un albergo, io sarei costretto a fare così. Mentre sarebbe opportuno che, per esempio, ci fossero dei luoghi, un salottino o qualcosa, dove il cliente può essere aiutato a fare l'accettazione senza doversi far venire il torcicollo. Quindi, come vedete, in questo caso non è necessario fare chissà che cosa. Ci sono alberghi che hanno previsto comunque un livello ribassato del banco di accettazione, ma è sufficiente uscire e sedersi insieme al cliente per fare in modo che la criticità possa essere risolta. Accompagnarli e aiutarli per le operazioni più faticose. Cosa assolutamente importante? Chiedere di cosa hanno bisogno. Non immaginate di sapere voi di che cosa ha bisogno il cliente. Chiedete e se siete in grado di risolvere la situazione, fatelo. Ma in ogni caso fatevi sempre guidare dal cliente. Se ci sono degli ostacoli, un po' il discorso che facevamo con la gita turistica, sapete che gli ostacoli infastidiscono chi usa la sedia a ruote. E quindi immaginate che magari un albero su un marciapiede può essere un ostacolo e automaticamente collegate una via di alternativa per fare in modo che l'ostacolo possa essere superato. Offrire aiuto anche quando hanno il loro accompagnatore. Offrire aiuto è una forma di cortesia. Se vi rispondono che non serve, prendete la risposta come tale e non consideratela una scortesia da parte del cliente. L'aiuto è stato offerto, se non serve, passate ad altro. Se dovesse decidere di avere bisogno del vostro aiuto, soprattutto per chi usa la sedia a ruote, la sedia a ruote è un ausilio molto delicato. In particolare se è un ausilio che è a trazione elettrica. Quindi intanto se è una di quelle manuali spingetela con la massima delicatezza. Non la sollevate da parti che possono creare poi dei problemi di funzionamento della sedia stessa, ma fate in modo che il cliente vi dica come fare. Soprattutto se è una sedia di tipo manuale, la persona normalmente la smonta e la rimonta con estrema facilità e sa perfettamente cosa toccare e cosa non toccare. Le persone con disabilità visive possono verificarsi a qualsiasi età e quindi possono esserci persone che perdono la vista o persone che non l'hanno mai avuta. Questo probabilmente comporta per la persona il fatto di avere una sensibilità diversa rispetto agli oggetti che può aver visto precedentemente o può non aver mai visto. Comunque in genere le persone con disabilità divisive hanno difficoltà di orientamento e di mobilità. Voi avrete sicuramente visto in molte strade delle nostre città quei sentieri che permettono alle persone con difficoltà visive utilizzando il bastone di seguire un percorso. Un percorso che a volte può finire anche contro un muro. Questo non significa che la persona ci deve andare a sbattere contro. Il muro continua ad essere un modo per aiutare la persona a seguire, a continuare il proprio percorso. Molto spesso, e questo è importante da considerare, avete visto quanti anziani ci sono, le persone con disabilità man mano che passano gli anni possono avere delle diminuzioni anche sensibili nella vista e quindi questo comporta poi delle esigenze di tipo specifico, avere delle informazioni da leggere con caratteri più grandi, avere, ecco immaginate, allora io mi parlo di Roma perché io sono arrivato a Bari questa mattina e non lo so come funziona. Le fermate degli autobus a Roma hanno delle belle colonnine in cui ci sono tutte le linee degli autobus con il loro percorso e lì ci vuole una vista d'aquila per riuscire a vedere esattamente quello che c'è scritto. Quindi non ci vuole molto a farle più grandi, tanto sempre colonnine informative devono essere. Non è necessario metterle ad altezza stratosferica, mettiamole ad altezza ragionevole in maniera che tutti quelli che hanno una difficoltà, sono ipovedenti o comunque hanno un calo nella vista, possano leggerle comodamente. Non è un accorgimento che costa, è semplicemente un accorgimento di buon senso. Molto spesso si ritiene che con il Braille si risolva tutto. Il Braille ahimè non lo conoscono tutti, soltanto una minima parte, però se c'è possibilità di offrire delle informazioni in Braille questo aiuta sicuramente. Tenete presente che con il passare dell'età la sensibilità delle mani diminuisce, quindi anche la capacità di leggere correttamente una informazione in Braille. Ora, che cosa serve per il contatto con un cliente che ha difficoltà visive? Intanto è necessario che lo scambio di informazioni avvenga in maniera audio, vocale. O voi dite quello che dovete dire o le persone ascoltano una spiegazione di tipo audio. È chiaro che al momento di una visita di un turista piacerebbe loro poter toccare i vari oggetti e i percorsi. Questo è sicuramente utile in una struttura alberghiera perché consente di capire come è fatto l'ambiente in cui andranno a risiedere. Ma è ancora più importante che questo sia consentito nelle visite turistiche che vanno a fare. Non tutti i musei o le gallerie consentono di toccare gli oggetti, però è un discorso che sta prendendo più piede. Per esempio i musei vaticani hanno alcuni oggetti, diciamo statue fondamentalmente, che sono state adibite alla possibilità per le persone non vedenti di toccarle. E quindi va segnalato in anticipo, però è possibile, è fattibile. Altre strutture hanno per esempio delle rappresentazioni in scala di quello che il museo o l'ambiente archeologico presenta e questo è molto utile per fare in modo che la persona riesca ad orientarsi all'interno di quello che sta visitando. È possibile per chi ha, diciamo, problemi di ipovedenza. Questo per esempio è molto utile. Come vedete il pavimento è grigio, la striscia è gialla, le sedie sono di colore diverso, le pareti sono di colori diversi e contrastanti. Un ambiente di questo genere è favorevole, è amichevole per una persona ipovedente. Quando si tratta di parlare loro è chiaro e dobbiamo dare spiegazioni chiare. Il bicchiere si trova alla sinistra a più o meno 20 cm dal bordo del tavolo. Il mouse è di fronte alla persona a 10 cm dal bordo del tavolo e a 5 cm dall'inizio del computer, in maniera che la persona riesca a capire dove stanno le varie cose. E possibilmente, questo se domani ce la facciamo, visto che i tempi corrono in maniera drammatica, vedremo anche un piccolo esempio di quello che non va fatto e quindi faremo una specie di lavoro di gruppo tutti insieme per capire come alcune situazioni vanno gestite. I bordi dei gradini devono essere dipinti colori contrastanti, le porte delle camere, le porte degli armadi, i pannelli di controllo degli ascensori devono avere lettere in rilievo. Devono essere, deve essere possibile per la persona sapere che piano spinge e poi molti ascensori hanno questo, ma al momento in cui arrivano al piano tacciono. Allora, siccome io non so quanti piani ha fatto il mio ascensore o se c'è qualcun altro che ha spinto altri piani, basterebbe semplicemente, oltre a permettermi di schiacciare il piano giusto, dirmi anche che sono arrivato al terzo piano. Così scendo nel piano che io ho scelto. Non serve, anche qui, per le compagnie di ascensori, questo ulteriore accorgimento non costa. Tratta solo di farlo inserire. Di considerare che una persona non vedente, non vede ma sente. E quindi diciamoglielo dove è arrivato. Allora, che cosa succede per noi? Cerco di accelerare, quindi, intanto questo vale per tutti, sempre e comunque, parlare alla persona e non all'accompagnatore. La persona che abbiamo di fronte è il nostro cliente. Entrambi sono clienti, ma quello che ci ha pagato per il discorso che vi ho fatto prima, io ho seduto, non ci riesco a stare tanto, per il discorso che vi ho fatto prima, se io debbo fare in modo di avere un accompagnatore che non sia un membro della mia famiglia, probabilmente devo sopportare anche le sue spese di viaggio. Ma sono sempre io il cliente. Quindi è a me che dovete rivolgere le domande, è a me che dovete parlare, è a me che dovete spiegare il servizio. Cercate di fare in modo che la persona sappia che siete lì, se vi dovete allontanare avvertitelo, perché altrimenti può darsi il caso della persona che continua a parlare e voi non ci siete più e questa persona parla al vento. Se dovete accompagnarlo da qualche parte, offritegli il braccio e fate in modo che lui vi dica come si può appoggiare se lui a voi o voi a lui. E guidatelo, possibilmente stando un momento dietro della persona. Quando gli, parliamo di un albergatore, quando gli dovete spiegare come è fatta la camera, indicate in maniera molto chiara, possibilmente seguendo riferimenti precisi, le lancette dell'orologio, nord, sud, est, ovest, dove sono i mobili, fategli lì toccare e lasciateli lì, o quantomeno lasciateli lì al momento in cui le descrivete. Se poi la persona vuole spostare questa sedia, continuate a lasciarla dov'è, perché se la persona l'ha spostata, l'ha memorizzata dov'è e se anche, diciamo, che non è il massimo con l'armonia della stanza, lasciatela dove l'ha messa il cliente. Anche nel riordino. Personale, bravissima, il personale di servizio va informato. Ora, tutto questo, io lo sto dicendo a voi, ma attraverso di voi è chiaro che tutte queste informazioni devono arrivare anche a tutti i vostri collaboratori, perché il manager, il responsabile di una struttura, quale che essa sia, non fa tutto lui, non deve neanche fare tutto lui, ma è assolutamente importante che tutte le persone che dipendono da lui sappiano quello che sa lui e si comportino esattamente come lui ha imparato a doversi comportare nei confronti di alcuni clienti. Quindi, a questo punto, abbiamo detto più o meno tutto, se vi chiede di accompagnarlo a vedere il bagno, anche qui dovete descrivere come è fatto il bagno e possibilmente facendogli toccare gli oggetti in modo che la persona si orienti nella struttura. La situazione igienica, ecco, possibilmente riguarda forse bagni che vengono utilizzati in strutture in cui si va per poco tempo, che so io, un ristorante, magari bagno di un museo, cose di questo genere. Lì la situazione igienica potrebbe non essere ottimale e quindi è opportuno che al cliente venga descritta. Ecco, una cosa importante, se sono accompagnati da un cane guida il cane deve entrare sempre e comunque nella struttura, in tutte le strutture. Vedremo domani come comportarci nei confronti di un cane guida, però sono animali addestrati, sono animali che lavorano, sono animali che non danno il ben che minimo fastidio. Pensate che sempre a Montreal, una ventina di giorni fa, c'è stata la rappresentante di un aeroporto statunitense che ci ha detto che stanno predisponendo delle zone negli aeroporti che sono zone in cui gli animali che sono lì in attesa del proprietario possono fare i loro bisogni, sia all'aperto che all'interno. E quindi, devo dire sì, alto livello, assolutamente. Allora, disabilità uditive, ancora una volta possono essere congenite, ereditarie, possono essere causate dalla nascita, da altri fattori, malattie, incidenti, può succedere, e variano dalla sordità parziale a quella totale. Quindi, in conseguenza, sia del momento in cui si verificano, sia della ampiezza del livello di non udienti, di sordità, chiamiamolo così, questo può influire sull'uso del linguaggio e sul fatto di poter comunicare in maniera adeguata. Quindi, spesso, dipendono da leggere le labbra della persona che sta a loro di fronte per poter comunicare, oppure utilizzano la lingua dei segni, che è una lingua completa e riconosciuta a tutti gli effetti. E' chiaro che le persone hanno bisogno di guardarvi, quindi, se io devo parlare con una persona che ha difficoltà uditive, dovrò assolutamente evitare di fare un atteggiamento, di assumere un atteggiamento di questo genere, oppure di fare in modo che magari, mentre parlo, faccio cose di questo genere. Perché il labbiale non è più realizzabile da chi mi sta di fronte. E devo anche evitare di cercare di far loro capire bene, perché questo non aiuta, anzi peggiora, la situazione. Quindi, direi quasi che ve lo dovreste dire voi quello che bisogna fare. Diciamo che il rapporto con l'interlocutore deve essere proprio un contatto visivo continuo e, oltretutto, fare in modo che le labbra, se dobbiamo servirci del labiale, siano illuminate, altrimenti è difficile che la persona ci possa seguire. Ma, nel caso non ci si riesca, nel caso io non sappia bene gestire il modo in cui parlo, è opportuno che carta e penna siano sempre disponibili, perché alla peggio scrivo e mi aspetto che dall'altra parte mi rispondano in quel modo. A maggior ragione è necessario, anche in questo caso, chiarire molto bene quali sono le misure di emergenza. Tenete presente che, allora, un allarme sonoro aiuta le persone non vedenti? Le persone non udenti? No. Allora hanno bisogno di un allarme luminoso. E se dormono? Una cosa che vibri. Per cui, oppure, dormono o sono girate dall'altra parte? Quello è là e io non lo vedo. Quindi, anche qui, un po' fondamentalmente di buon senso. Nel mettersi dei panni di chi ha, in quel momento, quel tipo di esigenza e capire come fare a non farlo morire sotto un terremoto o durante un incendio, perché fondamentalmente poi in caso di emergenza questi sono. Quindi, questo è vero. Allora, quindi, diciamo, cercare di stare di fronte. Attenzione, se io devo parlare a due persone, ecco, voi che siete seduti con uno spazio in mezzo, o parlo di qua o parlo di qua. E quindi devo decidere con chi parlare per primo, altrimenti nessuno dei due capisce. Ancora una volta, fate in modo che il labiale, io non saprei leggere un labiale, francamente. Certe volte faccio la prova quando guardo la televisione, tolgo l'adio e cerco di capire. Non capisco assolutamente nulla. Però chiedete loro se, diciamo, la velocità con cui parlate è adeguata o meno. E in più, fatemi capire con i gesti. Poi per noi, diciamo, che è abbastanza semplice usare dei gesti, e questo sicuramente aiuta. Un'altra cosa, dovete cercare di capire bene se la persona ha capito bene. E quindi, pronti a ripetere anche più volte, perché soprattutto se state spiegando qualcosa di importante, è assolutamente necessario che la persona sappia e abbia compreso quello che state dicendo. Per cui, qui c'è un altro appunto sulle persone anziane, che di solito non ammettono di non sentirci più bene. E quindi, ancora una volta, siate certi che quello che spiegate sia stato compreso, sia stato compreso nella maniera giusta. Se dovete spiegare qualcosa, e questo è importante, un meccanismo, magari anche il funzionamento di quei meccanismi per rispondere al telefono, allora, è chiaro che una persona, se guarda il meccanismo, non può seguire le vostre labbra. E quindi, o spiegate prima con il labiale il meccanismo e poi glielo fate testare, ma fare le due cose contemporaneamente potrebbe assolutamente non essere utile. Ancora una volta, se c'è un interprete, parlate al cliente e state molto attenti al momento in cui ci sono degli apparecchi acustici, perché interferiscono con i rumori della stanza. E quindi è importante che non ci siano troppi rumori convergenti, la radio che suona, gli annunci, perché se no questo crea confusione e correte il rischio che il vostro linguaggio non sia capito. La lingua dei segni. Sulla lingua dei segni abbiamo avuto una lunghissima conversazione prima con la collega. Molto spesso, io mi sento dire che, mettendo una persona che parla la lingua dei segni in albergo o in qualsiasi altra struttura aperta al turismo, ho risolto tutti i miei problemi. Allora, tenete presente che la lingua dei segni è una lingua nazionale. Cioè, in Italia si parla in un modo, in Spagna si parla in un altro. Qui sono riportati due esempi, la parola mamma e la parola albero. Come si segna in Italia, negli Stati Uniti e così via, sono tutti diversi. Perché? Non lo so. Però sta di fatto che il fatto che sia una lingua nazionale fa sì che se io metto un interprete dei segni che parla la LIS, la lingua italiana dei segni, viene compresa solo dagli italiani. quindi non ho risolto tutti i miei problemi. Come? La microfono. A Bari c'è, oltre all'associazione per quanto riguarda il linguaggio dei segni, anche ci sono gli assistenti di comunicazione che hanno questa associazione che si occupa anche di aiutare a comprendere, diciamo, a aiutarli anche nella comunicazione. Quindi non solo un discorso di linguaggio, ma anche un discorso di aiutarli a farci capire. Sì, certamente, ma diciamo che la lingua dei segni sola, quanto tale, non basta. Non è sufficiente perché non parla a un inglese. E in più, diciamo, stavamo veramente prima con la collega vedendo un po' tutte le varie possibilità, se anche io, interprete dei segni, imparassi la lingua dei segni inglese, io posso parlare un inglese, ma sono sicura che un spagnolo che ha imparato l'inglese sa anche quella? Quindi corriamo il rischio di far suscitare delle aspettative di comprensione che poi in effetti non trovano riscontro. Voi vedete che nei convegni dove ci sono interpreti dei segni hanno sempre la cuffietta per avere la traduzione nella propria lingua di quello che i vari relatori stanno dicendo. E nella propria lingua parlano ai propri concittadini, che siano essi inglesi, francesi, quello che volete, però sappiate che è un linguaggio assolutamente nazione, nazione e in qualche caso anche regionale. Quello ufficiale è quello nazionale, ovviamente. Mi sembra che si stia sviluppando una breve, diciamo, un compendio di parole a livello internazionale, una specie di esperanto, però anche qui bisogna essere sicuri che quelli con cui andiamo a parlare lo capiscano, altrimenti corriamo il rischio che facciamo tanto sforzo per impararlo e poi non abbiamo dei risultati pratici nei confronti delle persone. Nel caso di persone sordoceche, il problema è che dialogano con un sistema vocale e verbale e usano un sistema di gesti e un sistema di comunicazioni con le mani che si chiama alfabeto malossi. Eccolo qua. Allora, sulla mano ci sono dei vari punti che corrispondono alle varie lettere che sono di colore diverso. Quelle che sono in nero vengono toccate, quelle che sono in rosso vengono pizzicate e le persone in questo modo riescono a colloquiare. Sì? Beh, immagino che voi, o almeno qualcuno di voi avrà sentito parlare della Lega del Filodoro. Sì, ah, ecco. La Lega del Filodoro fa tantissimo e molti delle persone che appartengono alla Lega del Filodoro hanno un ottimo livello di indipendenza. Quindi, si può fare. Allora, difficoltà psichiche, lo stavo dicendo un po' prima quando abbiamo affrontato altro discorso, non è facile individuare queste come altre tipologie di disabilità che possono essere diciamo, nascoste fino al momento in cui non si manifestano. con espressioni che al volte possono anche essere estreme e quindi possono mettere sicuramente in difficoltà l'operatore dei servizi qualunque essi siano. È chiaro che dobbiamo cercare, dovrete cercare di avere con le persone che hanno questa tipologia di comportamento degli atteggiamenti amichevoli non bambineschi bisogna trattarli in maniera naturale affettuosa ma senza esagerare senza baci a bracci per intenderci perché quello può poi essere visto in un modo al momento in cui non ci sono più può essere risentito in maniera molto forte. Quindi loro hanno semplicemente bisogno di essere i benvenuti di sentirsi accettati però anche qui con misura. Ok? e usare segnali semplici per colloquiare con queste persone. Molto spesso è necessario fornire informazioni in linguaggio semplificato e questo mi riferisco particolarmente a voi che fate le guide l'avevamo già detto prima in questo caso ovviamente avendo di fronte a voi un gruppo composito dovete cercare di semplificare il linguaggio senza banalizzarlo e quindi al limite fare anche un po' di esercizio prima per fare in modo di parlare a loro e parlare a tutti nello stesso modo. Allora vediamo un po' aiuto volevo vediamo un attimo ecco qua volevo fare volevo che vedessimo in linea di massima quelli che sono gli aspetti dal punto di vista manageriale di una buona accoglienza che cosa si deve portare dietro sicuramente si deve portare dietro il fatto che esistano gli addetti a tutti i vari servizi che sanno di che cosa parlano e sanno come comportarsi e questo viene o da formazione di questo genere magari anche più approfondita o da una formazione top down che può avvenire attraverso il manager stesso al momento in cui un manager decide che la propria struttura quello un po' che avevamo detto ci avevamo detti prima che si vuole aprire ad un mercato che sicuramente comporta delle conoscenze più approfondite e al limite la necessità di risolvere delle criticità maggiori è chiaro che non può rimanere un discorso chiuso nella stanza del manager ma deve arrivare a tutte le persone in tutti i livelli di servizio della struttura e come struttura non parlo solo di struttura alberghiera ma qualsiasi struttura in cui la persona arriva accede esce e gode tutto quello che c'è dentro quindi i bigliettai della biglietteria del museo piuttosto che la reception di un albergo piuttosto che l'autista di un taxi devono essere in grado di far sì che la persona trovi il servizio che si aspetta ovviamente lo trovi come? con un taxi che sia utilizzabile da tutti con un museo che sia utilizzabile da tutti con una struttura alberghiera o una struttura pubblica uno stadio che sia utilizzabile da tutti cioè le due componenti non possono essere scisse dobbiamo avere una componente fisica ed una componente comportamentale che vanno assolutamente di pari passo oltre a tutto e questo anche mi sembra un'affermazione abbastanza banale se vogliamo ma per esempio un ambiente in cui i mobili sono posizionati in maniera sensata migliora la funzionalità dell'ambiente stesso può essere più piacevole per tutti a me è capitato di vedere un albergo due alberghi diciamo a Roma uno era di una catena 5 stelle e aveva fatto una camera che chiamavano per disabili che era un orrore una camera singola come se la persona disabile dovesse sempre viaggiare per conto suo brutta a piano terra che guardava verso il cortile insomma una cosa inguardabile e c'era un altro albergo che aveva fatto una camera mentre il primo di cui parlava era un 5 stelle costretto da come dire da una policy di gruppo a avere comunque una camera accessibile e quindi l'hanno fatta un altro 4 stelle che aveva una camera francamente bellissima una camera in cui era piacevole stare in cui non solo l'ospite disabile ma qualunque ospite avrebbe pagato di più per avere quella quindi oltre a tutto questo che cosa comporta dal punto di vista economico che se io faccio qualcosa di bello non me la devo tenere da parte finché arriva la persona con disabilità perché gli altri non ci vogliono entrare io devo avere una camera o più camere che siano confortevoli che siano piacevoli che siano esteticamente accettabili in modo che le vendo sempre quando ho l'ospite con disabilità e quando non c'è altrimenti poi noi spesso ci sentiamo fare critiche da parte degli operatori eh ma io questa stanza ce l'ho sempre vuota ma se questa stanza è brutta nessuno ci vuole andare non è molto più complicato che questo francamente e se dovete fare qualcosa fatevi consigliare da un esperto fatevi consigliare da chi queste cose le ha studiate ci sono tanti corsi per architetti a Roma c'è da vent'anni un corso post lauream sulle barriere architettoniche le persone che escono da questi corsi sono in grado di darvi un consiglio che non vi fa spendere patrimoni ma che risulta poi in situazioni piacevoli per tutti allora ecco anche questo eh alcune modalità aree di parcheggio riservate vicino all'entrata o la possibilità di arrivare con la macchina fino all'entrata percorsi senza ostacoli buona illuminazione possibilità di sedersi e riposarsi nelle zone pubbliche segnaletica per fornire informazioni e direzioni che possano essere facili da trovare bagni facili da individuare attenzione questo bagni facili e cose facili da trovare servono per tutte quelle persone che hanno difficoltà di orientamento per tutte quelle persone non udenti che se stanno in strada devono basarsi sui cartelli per capire dove devono andare perché se chiedono a qualcuno magari non ci riescono a scoprirlo in un aeroporto le indicazioni devono essere utili per tutti voi dovete considerare la persona che si muove da sola e se anche all'accompagnatore fate conto che non ci sia è come se la persona fosse sola e deve autonomamente raggiungere l'obiettivo di quello che sta facendo in quel momento ok ci siamo allora io questa la spegnerei qua e vorrei farvi vedere molto rapidamente di quello che non siamo riusciti a fare proprio 10 10 10 10 minuti no non questo arrivo allora non voglio entrare nel discorso dove sei qua no no per carità la normativa no ve la riparo però volevo alcune funzioni sì alcune diciamo cose ICF l'ICF è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute tenete presente che attualmente sulla base dell'ICF si determinano anche tutti i livelli di disabilità e quello che uno riesce o non riesce a fare nella sua vita sociale e lavorativa va in base a tutta una serie di funzioni che considerano la persona quindi le funzioni fisiologiche le strutture corporee le menomazioni che sono problemi legati alle singole funzioni l'attività che una persona deve cogliere deve compiere e le limitazioni all'attività allora dove stanno queste limitazioni all'attività in parte stanno nel fatto che se io non cammino non cammino ma se io non cammino e mi siedo su una sedia a ruote la mia capacità di movimento l'ho risolta giusto? in teoria perché perché se trovo un gradino non posso più andare ma il gradino è me? no il gradino è fuori di me ok? quindi la mia capacità di partecipazione me la sono garantita la il limite alla partecipazione non è mio viene dall'ambiente esterno quindi questa classificazione che cosa fa? mette in funzione la persona che è quello che è se io non cammino non cammino non lo posso negare con l'ambiente che non mi consente nonostante quello che io faccio di partecipare quindi la rivoluzione di questo sistema è quello che la disabilità non è più centrata sulla persona ma è praticamente centrata sulla capacità o meno della persona di partecipare alla vita sociale e quindi esattamente quindi l'ambiente può costituire un facilitatore l'autobus mi fa salire a bordo oppure costituisce un ostacolo ma sicuramente quello che è importante è che non è più la persona il focus ma è l'ambiente che non permette e questo è un concetto che va compreso fino in fondo non è colpa tua ma è colpa di quello che ti circonda e quindi quello che va considerato e che va cambiato è quello che ci circonda che viene fatto e lo so però attenzione siamo tutti cittadini e quindi certo e quindi quello che io volevo farvi vedere è questo per esempio come si è modificato il modello della persona con disabilità dal modello medico al modello sociale che mi dice il modello medico questo signore non può entrare perché lui non può fare i gradini il modello sociale dice che io non posso entrare lui non può entrare perché ci sono le scale fino al 2002 non era così chiaro allora diciamo meglio l'handicap è l'edificio perché molto spesso si sente parlare voi non l'avete detto devo dire a vostro onore portatore di handicap no non più l'handicap non porto proprio niente l'handicap mi sta di fronte ok diciamo sì nel golf devo dire vantaggio allora lo vediamo domani questo perché ormai mancano veramente vi vorrei invitare a consultare questo libro bianco sul turismo per tutti in Italia che è del 2013 e ci sono dentro tutta una serie di iniziative comprese quelle pugliesi che sono state realizzate allora vi do un compito fino a domani voi avete detto diversamente abili allora io domani mi impegno a condividere l'affermazione diversamente abili se voi mi portate degli esempi di diversabilità ok voi mi dite una persona diversamente abile in che cosa è diversamente abile voi me lo dite e io cambio la mia idea appunto ok però però ditemelo cioè voi dite no no lo dobbiamo discutere insieme lo dobbiamo discutere insieme allora diversamente abile significa che io sono diversamente abile a fare che allora se voi mi portate un elenco di cose che io faccio in maniera diversamente abile domani ne parliamo va bene dica si muove lo stesso però si muove si muove non è diversamente non è che si muove in maniera diversa si muove però si muove l'attività è il movimento dico bene e non è diverso è movimento allora adesso un attimo scusate un attimo che devo chiudere e lo devo fare in maniera ufficiale ci vediamo domani pomeriggio al castello di conversano bene sarò felice di vederlo grazie a voi grazie per essere stati qui fino adesso mi raccomando il compitino perché domani me lo aspetto oltre al fatto di muoversi nel buio grazie a voi Grazie a tutti.